buonasera a tutti oggi è venerdì e siamo al 7 di agosto io avevo detto che avrei preso un po di ferie dalle letture mentivo mentivo perché in realtà sono stata stimolata a uscire dal momento di silenzio perché ho da presentare due autori un autore che ha già scritto diversi romanzi e un autore che è la sua prima esperienza allora questa sera sono felicissima perché mi hanno chiesto di leggere questi due autori per una casa editrice che inaugurò meglio apre le porte nel 2020 quindi alla faccia del covide sono riusciti ad aprire la loro attività proprio nel 2020 e altre voci edizioni tutto ligure e quindi potevo non esserci io ligure a inaugurare la stagione con questi due bellissimi romanzi che io ho già letto e devo dire che sono molto molto belli lo sapete che non li ho letti tutti fino alla fine non devo mentire perché non ce l'ho fatta caspita è allora questo si chiama si chiama l'autore non il titolo è si chiama aldo boraschi ha scritto 15 romanzi e il il suo romanzo si intitola il tempo che faceva poi leggiamo invece un primo il primo romanzo di quest'autore che si chiama roberto chilosi come acqua chiaramente come sapete io vedo sempre il titolo al contrario perché essendo auto è chiaro che viene sempre al contrario e quindi leggete sempre un po strano ma ve lo leggo io come acqua il tempo che faceva le letture come ben sapete sono abituata a farle sempre in ordine alfabetico rispetto al nome degli autori in modo da evitare di fare preferenze molto molto bene intanto qui ci sono già 14 occhietti e quindi sono molto contenta saluto le persone che vedo luca marini ciao lucia sempre bella grazie luca poi chi c'è antonella grandicelli ciao cara ben arrivata buona sera luciana rio la mia amica da airbus in sardegna e per adesso si sono fatti avanti solo loro scrivetemi mi raccomando scrivetemi perché lo vedete dove sono sono in una libreria questa sera nella libreria fieschi in via dante alighieri vero perfetto azzeccato anche la via sono stata promossa cosa dite cominciamo ma cominciamo cominciamo intanto è arrivato stefano però un ciao poi chi è arrivato il mio sogno di poetessa cristina crescentini ciao poi 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 chi c'è chi c'è chi c'è sto aspettando vi è marisa ciao ben arrivata claudio ciao ben arrivato bene ragazzi cominciamo a leggere perché qui c'è una temperatura sembra di essere al 7 di agosto c'è caldissimo allora cominciamo con aldo boraschi io chiaramente ho scelto delle letture ma sapete che vi leggo sempre la quarta di copertina e non mancherò neanche questa volta gelinda rustichetti ha vissuto tutta la sua vita a senso un nome paese della geografia incerta e dalla storia compromessa da una frana che ha distrutto l'ufficio anagrafe cancellandone il passato beata nocentini è invece una giovane ragazza che porta addosso fin da piccola la fama di scema del villaggio due anime solitarie che non possono fare altro che incontrarsi e incastrarsi alla perfezione i racconti di gelinda riportati per tanti anni nei suoi quaderni e poi tramandati a beata diventano la memoria degli avvenimenti e dei personaggi che hanno segnato il borgo un continuo susseguirsi di uomini e donne di storie reali sincere e ricche che gelinda osserva dal suo bar gelateria il tempo che faceva è un'ode all'arte del raccontare del guardare il mondo attorno a sé e riportarlo indelebilmente sulle pagine della storia la signora rustichetti gelinda ha finito il suo terzo kit kat e sta andando all'attacco delle merendine al cacao che tiene blindate all'interno del suo armadietto fuori dalle grinfie del personale della casa di riposo belle età e da quelle della sua compagna di stanza nella cameretta linda e profumata appoggiate su un tavolinetto di formica sono impilate delle vecchie riviste sfogliate risfogliate e il colore bianco della parete è interrotto da un quadretto rossastro che dovrebbe essere un bosco d'autunno ferito da un ruscelletto che scende lento completano l'abbellimento della parete dei poster di scoloriti oceani e tre agghiaccianti da gherotipi di pescatori c'è una sola finestra con le tende sottili parzialmente tirate e più là un cielo che appare lontanissimo le mattonelle sono quadrati di graniglia bianchi e neri sopra il letto della signorina rustichetti gelinda troneggia invece un ritratto che le fece un artista quando ella era in giovane età porta i capelli tirati all'indietro pettinati in uno chignon che valorizza la sua pelle d'avorio nella tela indossa una camicetta con il colletto ricamato e attorno al collo porta una collanina d'oro appoggiata sulle spalle ha una mantellina di velluto marrone che le copre parzialmente le mani sembra dire al pittore che l'ha immortalata di fare il possibile per rispettare la discrezione che contraddistinto la sua vita sotto al letto custoditi dentro ad una vecchia capelliera ci sono un cappello da donna falda larga di colore nero e un vecchio e consunto berretto da baseball ora alla veneranda età di 89 anni è una bella signora assomiglia ad una nonnina disegnata da anne barbera con i suoi boccoli bianchi tendenti al blu occhi piccoli tondi e licuorosi naso minuscolo e affilato è gentile educata spiritosa e non c'è nessuno che abbia un motivo per avercela con lei il primo giorno della sua venuta nell'istituto gelinda prese accordi chiari con la direzione un pomeriggio alla settimana aveva libero accesso alle cucine onde poter continuare la sua arte nella produzione dei gelati il suo intento era quello di tramandare le ricette a beata che una volta arrivata la maggior età avrebbe potuto continuare la tradizione la direzione dal canto suo si trovava una volta alla settimana un delizioso dessert pronto e gratis per tutti gli ospiti e i dipendenti della bell'età nel tempo beata si è dimostrato un'eccellente allieva il suo tipo di apprendimento è cinetico impara facendo guardando ascoltando imitando la sua cultura è essenzialmente orale dettata dai ritmi di spiegazione di gelinda tanto nell'arte gelatiera quanto nelle altre materie che la donna prova a spiegarle racconta bene le storie gelinda qualunque tipo di storia i suoi capelli bianchi danzano sui fiori del vestito le sue narrazioni si snocciolano che è un piacere davanti alla bocca spalancata di beata parla colori ma non con i colori di adesso ma con quelli di una volta il giallo del grano e delle patate d'estate l'azzurro delle sere più lunghe in primavera il viola dell'uva all'inizio dell'autunno il bianco della neve e del latte appena munto racconta storie che sono panorami non strade poco importa cosa voglia dire dove voglia arrivare ti viene voglia di non andare da nessuna parte di stare lì sotto un albero e guardarti intorno per poi ripartire una volta sazio senza l'ansia di arrivare l'aroma della vaniglia si fa largo tra il cucinato pesante stantiù della cucina gelinda si sta preparando ad usare e miscelare gli ingredienti sotto l'occhio attento di beata e allora come sta andando con quel lello lello è uno studente della quarta classe è sfacciatamente bello lello moro carnagione scura le ginocchia leggermente curve e i muscoli delle gambe in rilievo come i calciatori 17 anni quasi 18 lo sguardo tagliente nero di chi sogna i grandi stadi la serie a le veline il viso e i tratti duri da meridionale va a scuola un po' a intermittenza è già stato bocciato i professori dicono che è un ribelle che forse è meglio avviarla un lavoro sin da subito a lui non frega nulla di quello che dice la gente almeno così sembra beata e quando si guardano la fissa con una tale ostinazione che lei deve nascondersi dietro il primo angolo a disposizione per trovare il coraggio di respirare di nuovo questa storia va avanti da un mesetto da qualche giorno beata ha trovato il coraggio di parlargli e addirittura di fermarlo durante la ricreazione non mi vuole più vedere e come mai perché dice che sono bugiarda gli hai mentito non gli ho detto che avevo qualche problema a livello mentale lo è venuto a sapere dalla gente del paese ti ha lasciato perché sei diversa non perché sei bugiarda vorrei vedere se gli avessi tociuto cari la regina d'inghilterra però ha detto che forse più avanti potevamo rivederci tra un po' magari puoi vedere si capiscono all'istante loro due senza bisogno di scambiare verbo senza bisogno di fare gesti esplicativi non occorre nemmeno guardarsi vuoi vedere che quello stronzo vuole andare a letto con mia madre perché no smettono per un attimo di avvicendarsi alla cronaca per ridere in pace e arriviamo all'ultima lettura cambiamo capitolo perché questo romanzo sostanzialmente è una raccolta di è un diario che scrive la signora gelinda e racconta le vicende no e ogni volta che scrive poi lascia e alla fine avremo il diario della sua vita o meglio della sua vita e della vita degli altri come questo franco che leggiamo adesso questa è una pagina di ario martedì 3 maggio 1960 ore 7 e 09 temperatura 14 gradi cielo nuvoloso vento teso di scirocco caldo africano che promette pioggia mare molto mosso franco non è andato a pescare a causa della burrasca quindi apro un po' più tardi perché lui è sempre il primo a venire a volte mi aiuta anche ad alzare la saracinesca ma il primo a entrare oggi non è franco ad aspettarmi in strada per il primo caffè c'è il maresciallo musca quando l'ho visto con gli occhi cerchiati la barba non fatta ho capito subito di che cosa si trattasse ha fatto ancora il pazzo beniamino gli ho chiesto lui non ha risposto niente ha solo fatto un cenno di assenso con la testa e mi ha preso le chiavi delle mani per aprire la saracinesca prima o poi doveva succedere lo conoscono tutti in paese beniamino lui è una ex gloria sportiva del paese non è l'unico senza un nome sembra il terreno ideale fornare assi dello sport in giro per il mondo c'è anche un tennista che fa meraviglie beniamino invece era un pugile 97 incontri 20 anni di palestre che puzzano di sudore e sangue all'inizio è bello sei giovane e i pugni ti sembrano carezze arrivano i successi arrivano le acclamazioni del pubblico assetato di violenza più che una nobile arte è una scazzottata da bar ma lui era un pugile questo è quello che andava a dire in giro quando si trattava di fare delle presentazioni per beniamino carcutta quel ring è tutto quello che la vita ha saputo offrirgli arrivano i primi ingaggi in città di quelli che contano arrivano le cinture prestigiose arriva anche l'apparizione nelle arene a stelle strisce con lo speaker e le ragazze svestite che spiegano al pubblico quanti pugni mancano al termine dell'incontro la cena del dopogara è in una delle tante terrazze che sono a contatto con il cielo ma i cazzotti fanno male tanto troppo i mesi sembrano anni gli anni secoli finisce presto il successo le ragazze svestite non ci sono più rimangono in ringhe di periferia quei fogli di giornale che parlavano delle vittorie sono solo trofei da mostrare ai clienti del bar gelateria tra un bianco e l'altro le strade non sono più la striccate d'oro quella di rosario porta ad una casa popolare con la moglie patrizia e due figli piccoli un impiego da facchino in un albergo di lusso in riviera fatica tanta ma la paga è buona le mangi ancora di più e se vogliamo dirla tutta non sono un facchino sono un cameriero ai piani dice quando si tratta di fare le presentazioni in giro nell'hotel c'è anche gente che non conosce la storia dell'uomo che da senso il nome è arrivato sia negli stati uniti perché sapeva tirare i pugni allora è più facile inventare allargare leggendare l'unico tentativo della scalata al titolo mondiale dei pesi mosca peraltro naufragato dopo una combinazione magistrale del cubano ramirez al tredicesimo secondo della seconda ripresa diventa il match del secolo televisioni flash taquini al paese c'era pure la banda ad aspettarmi quando sono arrivato ricorda o inventa beniamino ma ora ci sono i figli da portare a scuola l'appuntamento con la banca che non è sensibile al passato di quella ex gloria locale e c'è la moglie c'è patrizia si conobbe l'uno dei parti che beniamino fece prima della partenza per gli states lui era bello come il sole tirato a lucido pieno di futuro a tinte rosa davanti agli occhi facile per patrizia cadere nel tranello del destino un sogno durato quattro anni quelli dei contratti milionari ma il sogno svanisce lasciando il posto alla pedestre realtà si ricomincia la vita un'altra e peggiore esistenza beniamino rimane per un anno imbambolato a metterlo al tappeto non sono montagne di muscoli gambe guizzanti ma la vita rimane fermo dopo aver pietito per sei mesi un ingaggio per le serate nelle palestre di periferia a casa c'è il cilicio del buio quel pozzo nero da far passare seduto sulla poltrona occhi sbarrati sigarette che si consumano in fumo poi arriva patrizia la scena cambia i toni si alzano gli ultimi pugni beniamino li ha tirati proprio a lei alla sua principessa stanotte ha esagerato patrizia l'hanno portata all'ospedale i figli piccoli ai parenti beniamino in carcere in città stop fine della storia nusca non ne vuole nemmeno parlare a me viene solamente da piangere mi vengono gli occhi lucidi lucidi penso che domani porterò delle vaschette di gelato per patrizia e due pinguini per i bambini lo facevo anche prima loro non hanno mai di soldi e come si fa a negare a due bambini il gelato è stupendo è il tempo che faceva aldo boraschi io ve lo consiglio in realtà io sono fortunata perché ce l'ho già esce il 12 nelle librerie quindi dovete aspettare ancora cinque giorni ma potete assolutamente approfittare chiedere informazioni per esempio qui alla libreria fieschi no io mi tampono come nella tv ecco scusate c'è questo momento di caldo intanto sono arrivate un sacco di persone vado a salutarle tutte aldo ciao annalisa ciao mauro morellini ciao buonasera maurizio petix qui ci sono anche i colleghi sarah lavette ciao cara ben arrivata paola grossi sei bravissima molte grazie alessandro vanoli isabella ciao simona sta guardando mi mattinelli francesca rocca bravissima quanti siete ma che bella atmosfera sempre più brava ragazzi mi viziate mi viziate molto tenera questa descrizione della signora sbagliato a schiacciare scusate molto tenera questa descrizione della signora anziana è vero è un bravo autore e non perché ce l'ho qui davanti ma perché lo penso veramente non ve lo faccio vedere perché c'è un autore su due e non mi piace ci fosse anche l'altro che leggiamo tra poco me lo guardo solo io allora ciao luci ciao luci ragazzi siete tantissimi grazie grazie di cuore allora io mi sono tamponata come in tv adesso mi bevo anche un po d'acqua così facciamo tutto in diretta come piace a me bene e andiamo ad affrontare come acqua questo romanzo meraviglioso di roberto chilosi per chi ama lo sport per chi ama la canoa direi che questo è un libro che non può mancare sulla libreria in libreria quarta di copertina un uomo innamorato dell'acqua e la sua canoa il risultato di questo incontro è come acqua un libro che è insieme romanzo d'avventura autobiografia e cronaca di viaggio un lungo racconto in cui si fondono l'insaziabile curiosità per l'ignoto la sfida contro i propri limiti umani e sportivi e la riconquista di una vicinanza al sé più profondo viaggi spesso solitari in mezzo ad una natura primitiva e violenta è una bellezza che incanta senza lasciare alcun immagine di errore l'autore con il suo stile immediato e senza nascondere nulla trasporta il lettore sulle rapide sudamericane nel sacro tibet alla scuola nella sconosciuta tasmania ma il cammino si spinge anche intorno alle sue fragilità più umane che solo nell'acqua si disvelano completamente allora ho scelto delle letture mi hanno anche un po aiutato devo dire la verità ma poi faccio una sorpresa anche all'autore e alla consigliera allora cominciamo da qui vita da guida italia maggio 1995 sogna in grande e osa fallire diceva fabrizio pistoni quando ancora canoista pischello vedevo passare i gommoni sul fiume ero colto da fastidio disturbi intestinali dispezia emorroidi mi sembravano dei pistola che non capivano niente del fiume ne inquinavano la purezza un'attività commerciale abietta e priva di senso sette otto selvaggi urlanti su un verme di gomma di cinque metri con in coda la guida che era più pistola dei loro e urlava come un pazzo per farsi sentire eravamo solo noi i puri santi e mistici canoisti gli unici depositari della verità del fiume e gli unici a poterlo scendere rispettandolo mai e poi mai sarei salito su uno di quei cosi la spocchia di noi kayaker di alto livello è pari solo alla nostra stupidità ma la vita al solito ci riserva divertenti sorprese così un giovedì sera del maggio 1995 ricevetti una telefonata dal mio primo maestro di canoa massimo con proprietario della più grossa base rafting della valsesia mi chiedeva o meglio mi implorava di guidarli dei gommoni perché non aveva abbastanza personale rifiutai ovviamente ma lui insistette finché sparò una cifra quello che avrei guadagnato in un weekend ok a che ora devo venire anni di sani principi sgretolati come castelli sulla sabbia in onore del dio denaro ora è pur vero che in quel periodo cercavo un lavoro alternativo qualcosa che mi permettesse di seguire i miei nirvana liquidi al di fuori delle stalle ma mai e poi mai avrei pensato di finire a fare la guida rafting morale della favola il sabato curioso e agitato salire in sesia mi fecero assistere a un briefing mi fecero scendere come passeggero su un gommone enorme verde il secondo giro fu già mia pur essendo un po timido mi fecero fare il briefing a una quarantina di persone sfoggiai una sicurezza incredibile sembrava non avessi fatto altro nella vita non ricordo le facce dei primi sapiens come tra di noi chiamiamo i clienti che ho portato ricordo solo l'emozione la strizza prima di entrare nella rapida di balmuccia che all'epoca era ancora a livello difficile con gli enormi tre rulli in fondo in ogni caso la passammo indenni in quella rapida non mi sarei mai ribaltato né quella né ogni altra volta nei 25 anni successivi quell'esperienza mi convinse definitivamente a licenziarmi dall'impiego statale non ce la facevo più ormai mi pesava tutto non sopportavo più di dovermi alzare la mattina presto per andare a fare il controllo del latte né i miei colleghi volevo solo andare in giro per il mondo a fare canoa così decisi che avrei vissuto di sola aria e acqua e divenne guida cercavo sempre di spingere oltre il mio limite ero quasi impetuoso nella mia voglia di fare strafare e nel 92 ebbi il mio primo brutto incidente durante la discesa del taverone un bel torrente incassato in una stretta rocciosa gola lunigiana valutai male un piccolo salto non mi accorsi che era ostruito e fu il risucchiato nel sifone sottostante il sifone è una sorta di colino formato da rocce o tronchi che ostruiscono il corso del fiume spesso in fido perché semi sommerso in cui magari riesce ad entrare ma non uscire mentre venivo risucchiato sotto capì che stavo per morire ma non mi passò tutta la vita davanti vedi solo un muro grigio davanti a me la fine di tutto nient'altro centrifugato dalla forza dell'acqua entra in una dimensione diversa dove tutto è accelerato e rallentato allo stesso tempo durò solo pochi secondi forse per la prontezza di riflessi nel saltar fuori dalla canoa o forse perché il sifone stesso non era così ostruito mi salvai quando vedi la luce sopra di me non quella della fine del famoso tunnel capì che stavo uscendo gli altri restarono attoniti e increduli o uno di loro si era già arrampicato sulle rocce per chiamare i soccorsi all'inizio mi venne da ridere faticavo forse a realizzare quello che mi era appena capitato e continuai la discesa come se nulla fosse ma quando mi trovai solo in macchina senza più la botta di adrenalina arrivò la paura piansi e passai la notte insonne rivivendo mille volte ogni attimo dell'incidente il sifone assieme ai rugli e gli inchiastri sono la prima causa di morte in canoa altri amici non saranno fortunati come me eppure io non credo alla fortuna e penso che tutto sia sempre conseguenza di una tua decisione un riflesso un movimento anche inconscio che ti porta a cavartela e uscire o ti tracina sotto non evi contraccolpi psicologici dopo l'incidente se ignoriamo le prime notti e continuai la mia progressione alzando sempre l'asticella iniziarono a parlare di me come del new extreme progettai discese solitarie feci anche qualche gara di alto corso piazzandomi sempre nelle prime posizioni in canoa in acqua mi sentivo protetto avevo trovato la mia dimensione avevo finalmente trovato lo sport che concentrava in sé tutto quello di cui io avevo bisogno l'acqua l'adrenalina i viaggi la natura e poi è uno sport completo che necessita di equilibrio tanto fisico quanto mentale coordinazione forza e capacità di sopportare condizioni disagevoli come il freddo la fatica la fame è un'evoluzione continua in cui non si finisce mai di imparare come interpretare i movimenti dell'acqua come usarli a tuo vantaggio in un tango appassionato tra uomo e natura dove non esiste un partner che domini l'altro mi è venuta voglia di andare in canoa allora andiamo all'ultima lettura che ora abbiamo fatto forse ancora due letture vediamo un po' lontano Nepal fine 1997 in quest'alba serena e fresca di novembre tutto ha un sapore particolare gli odori i rumori i canti delle donne degli uccelli tutto è quieto e a me sembra di essere invisibile come vivessi in un sogno in cui non sento più il desiderio di tornare a casa quello che vorrei è continuare a viaggiare con la mia canoa e il mio sacco a pelo senza dovermi preoccupare di niente o nessuno vorrei che questa vita continuasse per sempre e che i giorni passati a pagaiare esplorare scoprire fotografare il paesaggio senza altra compagnia che quella di me stesso e di pochi incontri fortuiti non finissero mai scendendo in solitaria alcuni tra i fiumi più difficili del Nepal preoccupandomi solo della mia salute della mia alimentazione ho reimparato a stare da solo ho riacquistato fiducia in me stesso e soprattutto ho riconquistato una pace interiore che sembrava perduta una pace che vorrei proteggere per sempre per non dover tornare a soffrire mai più non colgo ancora l'importanza solo sportiva naturalmente della discesa qua appena terminato il Mars a Andy in solitaria e in sole 6 ore e mezzo quando la guida dice che ci vogliono almeno 4 o 5 giorni le ultime grandi piogge hanno innalzato di un grado il livello di difficoltà di un fiume che è già molto tecnico e pendente 62 chilometri di rapide massi affioranti contro roccia e rulli senza soluzioni di continuità un paradiso dell'acqua bianca forse il più bel fiume che abbia mai disceso finora adesso però non mi interessa guardo la canoa che è stata la mia casa e so che dentro c'è tutto quello di cui ho bisogno il cibo le razioni liofilizzate il kit di emergenza medica il materassino un paio di libri quaderni degli appunti e poco altro in questo momento ricordo solo l'imbarco sotto il diluvio universale e gli incontri casuali lungo il fiume i canoisti russi il torinese davide che come me fa la guida rafting in Val d'Aosta la donna della capanna e i portatori di riso che stamattina mi hanno osservato uscire dalla tana sotto il sasso in cui avevo dormito per proteggermi dalla pioggia ho solo confusi ricordi delle rapide della fatica della paura dei serpenti e anche del disagio della pioggia continua e battente o della fame cronica che mi teneva sveglio ma non scorderò mai il sapore di questa mattinata la sensazione di leggerezza ed unità di fusione con l'ambiente circostante i colori dei sari delle donne che si avviano verso i campi per la corta del riso i ragazzini in attesa del bus per andare a scuola che si affolano intorno a me curiosi mentre scrivo i miei appunti alcuni di loro giocano con il mio casco o la pagaia altri mi chiedono sculpen penne per andare a scuola le rupie arriviamo all'ultima lettura perché quest'uomo ha anche una bambina che si chiama Chiara che adesso non è più tanto bambina Chiara ci sono sempre mille soli al di là delle nuvole è un proverbio indiano nel novembre del 1998 all'ospedale Sacco di Milano nasce Chiara è un po' in anticipo rispetto alle previsioni ma è meravigliosa ha una manina così piccola che è poco più grande dell'unghia del mio pollice da subito stravedo per lei e so che sarà l'amore della mia vita Donatella perde il latte dovremo alimentare la piccolina di notte per far riposare la mamma me ne occupo io ma Chiara proprio come sua madre dorme sempre non piange mai fatico a svegliarla per darle il latte e la pediatra dice che va bene così che siamo solo fortunati in tre anni avremo forse perso una notte sono felice Chiara cresce simpatica e socievole sicuramente più dei genitori ed è molto tranquilla benché un po' cocciuta quando non vuole fare una cosa non fa capricci semplicemente si finge morta si lascia andare in terra del tutto inerme rendendo difficile anche prenderla in braccio allora spero di avervi fatto voglia di comprare questi due romanzi secondo me sono entrambi molto belli completamente diversi tra loro ma è giusto che sia così altre voci edizioni propone romanzi capiremo capiremo bene poi le collane capiremo poi se avranno modo di arrivare a gialli e chissà intanto sono nati e hanno portato queste due creature che direi che possono già essere molto soddisfatti di questo lavoro allora prima di salutarvi anzi prima di chiudere la diretta vi saluto un po' vediamo un po' chi è arrivato perché siete in tanti Graziella ciao che belle letture tu sei sempre bravissima grazie grande Lucia bravi bravi mi piace ditemi sempre brava brava che sapete che sono contenta molto brava grazie Davide Brusoni ciao Davide Bergamin Giusi Leone Raldo Minella caspita siete tanti eh Serena Nicora ciao sì so che non sei parente di Isabella Nicora ma so che faremo qualcosa insieme vero? poi chi c'è? Piero ciao Piero in ritardo ma sei arrivato Stefano Peron brava ciao le ho scritto in privato oh le ho scritto in privato le ho scritto in privato Davide Bergamin va bene è una minaccia allora vado a vedere poi cosa mi ha scritto in privato direi che vi ho salutato tutti brava mi scrive Stefano Peron grazie grazie mille allora complice la temperatura veramente tropicale direi che io posso salutarvi senza sentirmi troppo in colpa come sapete tra poco andrò in ferie ma credo che non vi abbandonerò per tutta l'estate sicuramente farò qualche cosa ma vedremo che cosa farò adesso non è che vi posso anticipare tutto ieri sera insieme a Valeria Corciolani e a Feretto Goffredo abbiamo fatto una presentazione meravigliosa al Y Lab a Chiavari oggi sono a Lavagna mi sembra di essere una turista che viene in Liguria a leggere in realtà vi ringrazio vi ringrazio perché è una diretta che non ci doveva essere e mi ha fatto un sacco piacere invece aver portato a voi a conoscere questi due autori questa nuova realtà la quale faccio tantissimo in bocca al lupo altre voci edizioni e buona serata e a presto grazie 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 ciao ciao